Te le faccio. Una di queste era la tua numero 10 che poi è stata indossata da Francesco che inizialmente aveva il 17 e il 20. Ora, al momento, nessuno indossa la numero 10 nella Roma. Tu la daresti a Zaniolo o a Pellegrini? Mi chiedono. Beh, è una bella domanda. Ma non perché non la meritano. Assolutamente. Sto pensando al ruolo. Al ruolo che tutte e due hanno. Forse, dico, non lo so, forse Pellegrini perché è romano. Ma per i ruoli, tutte e due non sono rifinitori, tutte e due non sono trequartisti, tutte e due non sono, secondo me, assist men. Sono giocatori di grande forza, sono giocatori di grande tecnica, però non hanno, secondo me, come dire, quel guizzo da trequartista che magari poteva avere Francesco. Però dico Pellegrini, forse Pellegrini perché è romano, perché... sì. È la conseguenza logica, dai, è la conseguenza logica, non tanto tecnico-tattica, no? Assolutamente, perché poi sono due grandissimi giocatori. È inutile star qui a dire... Però, però, ecco, forse per la continuità, non la romanità, dico, dico Pellegrini, visto che è romano.